grazie al prossimo video buongiorno amici e benvenuti come sempre al mio canale video nuovo nuova settimana video nuovo solita raccomandazione nel video scorso vi ho fatto la raccomandazione ho scoperto che una buona parte degli utenti del canale che si sono registrati alcuni solo per potersi in qualche modo iscriversi alla lista delle riparazioni non seguono molto frequentemente i miei video e quindi di conseguenza saltano di pari passo da un video all'altro andando un pochino a spot perdendosi le informazioni che sono allora interessanti importanti perché le metto all'inizio del video per evitare che se uno non è interessato all'intera visione dell'intero video debba assorbirsi diciamo passivamente tutto il video stesso però almeno la prima parte vorrei che la vedesse quindi io continuo a ripeterlo praticamente nell'inizio dei prossimi due tre video dopo di che non lo dirò più tutti quelli che si sono registrati per la propria riparazione e che quindi sono già in lista sono stati già messi in ordine assolutamente in ordine cronologico di richiesta quindi nessun problema nessuna possibilità di perdere eventualmente la priorità non vi ho ancora inviato semplicemente il testo con le varie condizioni di quest'anno ma non ve ne dovete preoccupare perché arriverà e comunque man mano che chiamerò gli utenti come sta succedendo per gli ultimi cinque utenti che sono stati già richiamati hanno già ricevuto tale informazioni quindi è solo una questione di tempo una questione di tempo che sto cercando di risparmiare in tutti i modi uno dei modi che ho trovato per risparmiare un pochino di tempo ed evitare di rispondervi completamente a tutti quanti uno per uno singolarmente siete ormai diventati centinaia che mi contattate praticamente mi è stato creato un canale anzi più che un canale un gruppo telegram su questo gruppo praticamente potete entrare a fare parte anzi dovreste entrare a farne parte se siete interessati a determinati tipi di discorso in questo gruppo darò le mie comunicazioni generalizzate a tutti quanti per evitare proprio di informare ogni singola persona volta per volta in più chiaramente essendo un bel gruppo nutrite di persone più o meno anche capaci nel senso che ci sono anche degli altri tecnici o comunque ci sono delle persone che hanno avuto la propria esperienza è un posto è un modo per poter condividere la propria esperienza le proprie informazioni chiedere informazioni sempre supervisionato da me quindi se è necessario posso rispondere direttamente io basta insomma taggarmi con il classica la classica coccinella chiamiamolo così o et l'informazione arriva direttamente a me risponderò direttamente io altrimenti potete scrivere qualcuno del gruppo risponderà il nome del gruppo non ve lo linko sotto perché potrebbero esserci problemi con il link esterno youtube potrebbe essere cancellato e quindi sarebbe un problema semplicemente adesso vi mando qui l'informazione qui sopra e poi basta insomma che copiate quell'indirizzo entrate su telegram e vi registrate quindi d'ora in poi tutta la messaggistica che volete in qualche modo inviarmi fatelo tramite questo gruppo privatamente sempre tramite telegram messenger come ho già detto in diverse live mi ha dato diversi problemi tanti messaggi non mi arrivano tanti messaggi non mi vengono notificati tanti messaggi vengono messi nello spam insomma non è possibile gestirlo lo si riusciva a fare qualche anno fa quando le richieste non solo di riparazione ma in generale anche di aiuto erano veramente poche qualche decina a settimana ora stanno diventando centinaia e purtroppo non ho la possibilità di rispondere a tutti facendo torto magari qualcuno si offende questo mi dispiace quindi non lo ripeto più telegram questo è il gruppo entrate in questo gruppo se volete iscrivermi privatamente c'è il canale privato e basta chiudiamo qua perché siamo nella vigile di pasqua anzi il video uscirà proprio nella serata di pasqua poi verrà visto quando uno ne avrà voglia e tempo e quindi cerchiamo di essere sintetici almeno per quanto riguarda la riparazione è il turno di nino che ha mandato il solito pacchettone pacchettone che in qualche modo può ingannare vista le dimensioni il contenuto lo vedremo come al solito facendo l'unboxing in laboratorio io chiaramente in questa volta lo so e me lo sono anche ricordato cerchiamo di fare una riparazione super rapida ok pacchettone chiaramente denudato di tutte le informazioni personali non tanto mie che ormai sono di domino pubblico ma tanto quelle del dell'utente che mi invia il pacco andiamo ad aprirlo e troviamo non dico la solita perché non tutti lo fanno ma io le conservo tra l'altro la letterina che accompagna la macchina cerchiamo di capire se qualcosa io ormai so che è un cliché per cui tutti quanti vedono che insomma poi alla fine leggo il contenuto delle loro lettere conseguentemente non penso ci sia niente di personale dovesse essere mi fermo prima comunque lo cancello poi in montaggio per il momento dice ciao domenico innanzitutto grazie per la splendida sorpresa ho scolato la classifica ho scolato la classifica e con enorme gioia non vedo l'ora di vedere il mio video del mio vecchio catorcio paverino no catorcio però col sorrisino nella scatola o scatolo come lo chiami tu e trovi c64 e alimentatore quindi abbiamo già svelato il mistero il led del c64 si accende ma poi schermo nero nel caso non si possa sistemare te lo regalo e usarlo come ricambio ho già comprato una kung fu flash e se ne avessi del se ne avessi delle se tu avessi del software da condividere magari con wind transport ti lascio l'email eccetera eccetera vabbè grazie mille a presto nino vabbè chiaro nino tutto è riparabile dipende dalla convenienza e quindi sicuramente sarà riparabile spero insomma non ci sia niente di importante per cui non valga la pena ripararlo anche se tu dicendomi che se non lo riparo me lo lasci è quasi una tentazione di dire ok già non si può fare più niente e me lo tengo io chiaramente non è così tanto di combo 64 ne ho veramente tanti ed è più forte per me il piacere di poter in qualche modo accontentare uno dei miei utenti quindi lo andremo a riparare comunque allora scatola nello scatolo che mi sembra anche un buon modo per proteggere ulteriormente il il fido comodo 64 imballaggio più che perfetto credo si tratti di un comodo 64 c per ora che lo togliamo ah no no è un classico biscottone ok mi sono sbagliato vediamo se capisco come ok l'imballaggio è sicuramente a prova di corriere e qua abbiamo il nostro bel comodo 64 un po sporchino ma non lo sporco di sporcizia fresca insomma di usura non di consumato ma dell'ingland è il classico case con le plastiche che a me piacciono e se non vado errato qua troveremo una sorpresa sulla tastiera questo genere di tastiera non è la classica testa del comodo 64 la vedremo fra un po quando andremo ad aprirla sicuramente dovrebbe essere un tipo di tastiera non tanto comune ok apriamo il nostro comodo 64 andiamo a scoprire innanzitutto la tipologia di tastiera solo due viti manca la centrale tra l'altro due viti diverse tra di loro quindi questo è stato già aperto e più volte spero non sia stato anche manomesso ok la difficoltà sta nel fatto che le viti di comodo 64 dovrebbero essere autofilettanti invece qua è stata montata una vite m3 classica passometrico quindi nulla a che vedere con quello che richiederebbe il comodo 64 e questa che da questo lato è diversa ancora e come vi facevo notare già quando la macchina era chiusa ci troviamo di fronte alla tastiera con gli annellini colorati in alto il pulsante caps look diverso c'è il voglio dire il shift look il pulsante shift look diverso insomma è una tipologia di tastiera diciamo non molto molto comune tastiera a parte vediamo lo shield in perfette condizioni quasi e ai 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 aia troviamo la macchina completamente zoccolata e con un segno di riconoscimento che a me spaventa questi bollini gialli che non so se appartengono un centro assistenza ad una persona eccetera eccetera ma ogni volta che trovo come 64 con questi bollini gialli qua messi palesemente a modo di controllo di qualcosa la macchina è ridotta veramente male quindi ai 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 e ci troviamo di fronte a qualcosa che sicuramente è stata manomessa non vorrei che il nostro nino avesse messo le mani avanti col suo foglio dicendo se non si può riparare te la lascia a te però le condizioni sono queste ora faremo questo per accelerare e smonto tutto colleghiamo il solito setup ci vediamo subito dopo d'accordo ci troviamo davanti a una scheda madre in buone condizioni completamente zoccolata tranne ovviamente le banco ram e vari chip logici questo può essere teoricamente una fortuna per un eventuale intervento tecnico per me soltamente invece è sintomo di sventura perché generalmente quando è stata zoccolata non si sa chi ci ha messo mano non si sa come è stata messa messo lo zoccolo e quindi potrebbe essere causa di problemi subdoli però sinceramente guardando la scheda dalla parte di dietro tranne qualche punto sporadico quella mi sembra sia stato fatto un buon lavoro per cui sono un pochino più tranquillo che chi ci ha messo mano insomma danni non ne dovrebbe aver fatto anche se poi i danni possono nascere da distrazione da complicanze inaspettate quindi non sempre verrà la relazione tecnico capace nessun danno diciamo che nel 99 per cento dei casi così però ci potrebbe stare anche un'eccezione in ogni caso cerchiamo di sfruttare il fatto che è tutta zoccolata e del fatto anche che questo video vorrei lo facessimo lampo per l'occasione della pasqua e quindi facciamo una sorta di mini tutorial io se dovessi riparare questa scheda semplicemente per la riparazione fino a se stessa avrei già puntato il dito su un componente probabilmente avremmo risolto ma dovendo fare comunque un video per quanto breve almeno non dico istruttivo ma più o meno allora vediamo come avrei fatto in altre condizioni proprio perché è completamente zoccolata quindi andremo a fare intanto andremo a verificare che effettivamente abbiamo questo schermo nero con l'alimentatore funzionante il monitor funzionante a volte esistono problemi veramente stupidi tipo il cavo video l'alimentatore difettoso cosa di questo genere quindi assicuriamoci in questo modo che lo schermo sia effettivamente nero rimanga tale beh sì direi proprio di sì quindi abbiamo veramente un profondo schermo nero solita termomano che ormai ricordo è stata brevettata poi vi darò il numero di brevetto lo pubblicherò in qualche video tutto sembra nella norma ad eccezione quello nello sgancio video ma questo potrebbe essere ora qua va bene abbiamo sicuramente uno schermo nero approfittiamo del fatto che è completamente zoccolata utilizziamo le dd test ed andremo a togliere completamente tutti i componenti che non sono strettamente necessari al dd test come dico sempre quindi partiamo per esempio dal seed che è assolutamente inutile per l'avvio della macchina togliamo anche le rom perché sono inutili non all'avvio della macchina ma all'avvio della dd test facciamo questa operazione proprio perché sono già belle zoccolate non dobbiamo stare lì a dissaldare tutti i componenti e togliamo anche le cia bene chiaramente gli altri componenti sono zoccolati non possiamo andare a levare non potremmo levare sicuramente le cpu né tantomeno le pla così come il cpu video e tutto quello che riguarda la zona di generazione video che su questo modello di assi 425 è sintetizzato in un unico componente che lo 37 01 quindi siamo veramente al minimo sindacale a questo punto veramente possiamo inserire la nostra dd test e provare ad accenderla e verificare che cosa succede non abbiamo avuto prima lampeggi per cui non dovrebbero esserci problemi di ram continuiamo a non averli adesso ma aspettiamo solo qualche altro secondo perché impiega qualche secondo ad avviarsi la dd test e sembra proprio di no continuiamo ad avere un profondo schermo nero a questo punto noi possiamo trovare un problema sul pla o un problema sul 74 06 74 06 che vado immediatamente a verificare con il mio oscilloscopio non vi mostro neanche l'oscilloscopio proprio per brevità di video alla fine sto controllando siccome una semplice porta inverter che tutti i segnali siano invertiti nello stesso identico modo quindi che tutti i segnali siano coerenti con l'ingresso e l'uscita delle porti quindi abbiamo alto basso e ci sta un'onda quadra un'onda quadra spassate di 90 gradi va bene 0 1 e ok 1 0 e ok 0 1 e ok 0 1 e ok e l'alimentazione quindi non è la 74 06 bene a questo punto ci rimane veramente poco ovviamente possono essere ancora qualche altro cpttl però abbiamo il nostro pla zuccolato e tra l'altro su questo tipo di assi anzi questo tipo di pella più che il tipo di assi è il solito indagato numero uno un po come il maggiordomo nei film gialli quindi andiamo a rimuovere anche il pla e lo andiamo a sostituire con un altro pla che ho appena preso dalla mia scheda muletto proviamo ad accendere aspettiamo il solito suspense 3 2 1 e via no ci sta impiegando un pochino troppo no ok ci si è aperto quindi siamo usciti da a quanto meno dalla situazione di di test questo cosa significa che il nostro di nel nostro pla era guasto perché non ci permetteva neanche di entrare ma non è detto a questo punto ancora che tutti i componenti che abbiamo appena elevato siano funzionanti semplicemente non sono la causa del mancato avvio o dello schermo nero del nostro comando 64 quindi possiamo fare una cosa semplicissima mettiamo da parte il pla guasto sicuramente guasto togliamo la dia di test e cominciamo a popolare la macchina con tutti i cip che sono invece strettamente necessari all'avvio quindi sicuramente non le cia sicuramente non nel sidi ma le rom quelle chiaramente ci devono stare quindi cominciamo a popolare le rom vedo che gli zoccoli vanno veramente molto duri quindi probabilmente questa piastra era già zoccolata di fabbrica anche i chip sono integri non sono stati mai saldati proviamo ad accendere bingo abbiamo il nostro com dal 64 perfettamente funzionante ad eccezione chiaramente del cursore per la mancanza della cia numero uno quindi proviamo a mettere il sid che non sappiamo se suona in questo tavolo di test lo vedremo dopo ma vedremo se è uno dei componenti che può lasciare il boot cioè può non far buttare la macchina invece lo fa quindi da accordo a questo punto non ci rimane che popolare semplicemente e molto velocemente le due cia mettendone nello stesso ordine con cui le ho tolte anche se sono assolutamente identiche non ripeto più il discorso l'abbio fatto decine di volte per chi mi segue sa perché faccio questo aspettiamo curso lampeggiante bingo mi sembra la riparazione più rapida di questo mondo ora non mi rimane che mettervi in stand by collegare la tastiera mettere un monitor con l'audio cercare di vedere se funziona tutto il resto ok come la 64 ho connesso all'auto box che abbiamo visto in qualche altro video giusto per non spostarci completamente di posto e perché comunque questo qua rispetto del piccolo monitor lcd ci dà la possibilità di ascoltare anche l'audio ho connesso preventivamente un joystick nella nella fiducia che insomma tutto funzioni correttamente generalmente questo tipo di problema su questo tipo di macchina non dà delle problematiche ulteriori visto e considerato che la macchina dispetto di come appariva inizialmente non è stata manomessa quindi proviamo ad accendere ok e abbiamo una seconda 64 proviamo la tastiera senza usare neanche dei test ok prima fila va benissimo va benissimo anche la seconda fila la terza ok tastiera pressoché perfetta non ci rimane che testare la macchina con un qualsiasi gioco quindi vado ad inserire sempre la mia fida kung fu flash o kung fu flash come la chiamo io e vediamo che cosa carica per prima fix it felix jr perfetto proviamo andiamo col joystick in porta 2 e l'audio è altrettanto perfetto per cui direi che questa macchina si trova in ottime condizioni non abbiamo ancora testato il dataset non abbiamo testato ancora la seriale così come la porta 1 però sappiamo che l'audio funziona la tastiera funziona l'espansione della cartraggio funziona il joystick in porta 2 sembra funzionare partitina d'ordinanza visto che abbiamo fatto un video iper super veloce quindi Grazie a tutti. Ok, primo step superato, non vi lascio appesi al resto del gioco, ci concentriamo subito nel test della seriale e del data 7. Ok, c'è del tempo, mi voglio fare male, ho preso una delle tantissime cassettine super comodo che non so neanche che cosa ci sia dentro, però mi voglio fare veramente troppo male perché si tratta ora del lato VIC-20C16, dobbiamo riavvolgere completamente tutta la cassetta per avere quella del 64. Con la scusa ho approfittato per riavvolgere completamente la cassetta e ho testato velocemente, col solito modo, quindi è inutile farvelo vedere in video, l'alimentatore del suo Commodore 64, per cui siamo sicuri che anche l'alimentatore sia a posto, quindi proviamo ad accendere, ora abbiamo la configurazione esattamente quella su originale e proviamo a fare un bel presplay on tape, quindi un bel load sulla nostra Super Commodore. Non vi lascio qui appesi, come sempre aspettiamo il found, ammesso che arrivi perché la cassetta come tante altre è una delle bustate di cassette che mi ritrovo chissà di quanti anni fa, conservate tra l'altro la meglio o peggio all'interno di un magazzino umido, quindi non so se funzionerà. Ho le mie cassette di test, ma voglio tentare, anche per capire che cosa c'è qua sopra, voglio tentare di caricare da questa cassetta, dovesse riuscirci, problemi non ne abbiamo. Chiaramente non stiamo testando il dataset, ma stiamo testando la macchina, però found C64 database direi che sta caricando, per cui immagino che caricherà completamente il Commodore 64, almeno dal punto di vista della porta del dataset, sia a posto. Va bene, pur non trattandosi di un videogioco, ma di un piccolo database come c'è sul titolo, comunque il caricamento è venuto con successo, abbiamo uno caricafile, aggiorno inizializza file, dtfile, visualizza file, save and define. A noi quello che ci interessa è che il dataset ha funzionato, il computer ha caricato, ora a prescindere dalla complessità del programma che stiamo caricando, sicuramente la porta funziona, quindi possiamo tranquillamente spegnere il nostro computer e confermare che la porta del dataset funziona. Andiamo quindi a provare la porta seriale, lo facciamo anziché con il classico 1541 con l'S2IEC, perché qua è più comodo e più piccola, sta benissimo e se funziona questa, la seriale funziona sicuramente. Ok, è alimentata ma non la vedevo. Quindi la seriale funziona perché mi ha letto la lista dei file, ma andiamo a caricare qualunque cosa, quindi facciamo il solito load fb, virgola 8, virgola, anzi virgola 8 e basta. Però se è partito regolarmente andiamo a vedere che cosa troviamo dentro il C64. Ma proviamo con Black Tiger. Ok, come sempre non vi lascio appesi, ci vediamo subito dopo. Ok, come si vede, programma caricato, non so se questo viene caricato in più volte, vediamo un attimo, cambio porta joystick, così con la scusa testiamo anche la porta numero 1 e infatti vuole la porta numero 1. Vabbè, diamo di no tutti i vari aiuti, tanto non dobbiamo neanche giocare tra l'altro e partiamo con il livello numero 1, press return to live. Ci siamo. Ok, adesso metterei un attimino a giocare, ma chiaramente non abbiamo fatto un video veloce per vedermi giocare a Black Tiger. Quindi, a malincuore, spegniamo. Bene amici, con questo video è veramente tutto. Videolampo, molto veloce, va benissimo, sono contento per il nostro Nino che evidentemente non aveva grandi problemi sul suo Commodore 64, video molto rapido con una specie di ripasso, non un vero e proprio tutorial, sull'approccio alla riparazione del Commodore 64 con questa tipologia di difetti, ma più che altro un video per approfittare di farvi a tutti quanti voi un auguro di Pasqua ed è per questo che ho portato il mio pet più pasquale che ho. Cosa c'è di più pasquale del coniglio, il mio cunì? Quindi un saluto anche da parte sua, anche ovviamente tutti gli altri pet che ho a disposizione, ma oggi è la giornata sua, quindi, e non finirà nel forno, rimarrà nella casa come tutti gli altri giorni di tutti gli altri anni in cui si trova qua. Quindi contento anche lui della Pasqua. Poi, per chi volesse seguirmi sul gruppo Telegram, vi ho dato all'inizio il link, anche se non vi ho segnato proprio il link per i motivi che vi ho appena detto, e nient'altro. Se il video vi è piaciuto comunque, nonostante è molto rapido, un bel like sotto perché a voi non costa niente, ma fa tanto per chi crea contenuti come me e chi non è iscritto al canale e vuole iscriversi, si guarda magari gli altri video e se gli sono piaciuti potrà iscriversi e questo, come dico sempre, ad ogni fine appuntamento da tre anni a questa parte ormai mi fa non solo molto piacere, ma mi incentiva a fare sempre molto meglio e molto di più e mantenere il canale vivo. Quindi un ciao e di nuovo auguri di Pasqua.